Ponzacco e Città di Castello si sfidano al Comunale di Ponzacco per la ventiduesima giornata del Gironè di Serie D. Cervella conferma il tandem d'attacco missaglia Ceccarelli, mentre nei toscani c'è Biasci a far coppia con Ferretti in avanti. I tifernati con la maglia blu a righe bianco-roffe da trasferta partono subito forte. Al settimo con un rasoterra di Locchi dalla distanza che Cappellini devia in corner. Al decimo Doveri conclude da fuori area. Calvarese respinge ma sul tapin Biasci in sacca. Tutto inutile però perché l'arbitro frasca di Ragusa annulla per posizione di offside dell'attaccante toscano. Al sedicesimo il baby bellante serve Ceccarelli al limite. Il tentativo di pallonetto dell'ex palestrina supera di poco la trasversale. Sono le prove tecniche del gol che arriva al minuto 36. Traverso una campanile dalla sinistra di Pilleri, Ceccarelli sale in cielo in mezzo a nonni danesi prendendo in controtempo Cappellini capace soltanto di spingere la sfera nell'angolino. Seconda rete consecutiva per il centravanti bianco-roffe dopo il sigillo partita dello scorso turno alla volontà Sospoleto. I toscani però non demordono e trovano il pari al quarantaquattresimo con Bortoletti che scutta un'amnesia difensiva Tifernate battendo di giustezza Calvarese su assistenza di Ferretti. La ripresa si apre con una clamorosa pallagol capitata sui piedi di Granito che riceve in piena area dopo una sforbicciata di doveri ma si fa murare il tocco dall'attento Calvarese. Il città di Castello risponde al sessantaquattresimo con Missaglia che riceve in profondità si gira verso l'interno tornando poi sull'esterno pennellando un pallon al bacio per Ceccarelli che viene però anticipato dal salvifico colpo di testa di Lici a due passi dalla linea e a 15 dalla fine Idromela fa la sponda aerea al limite ancora per Ceccarelli che controlla e conclude di potenza sul primo palo non centrando però lo specchio della porta. Finisce così con un Salomonico 1-1 che proietti il Ponzacchi in ottava piazza a pari punti con il città di Foligno mentre l'11 di Cerbella sale a quota 29 punti in undicesima posizione a più quarto dalla zona play-out. Grazie a tutti.